Enrique Iglesias e Anna Kournikova, la coppia ha avuto due gemelli Enrique Iglesias è diventato papà, il cantante ha avuto due gemelli dalla compagna Anna Kournikova. Enrique Iglesias, 42 anni, e Anna Kournikova, 36 anni, sono ufficialmente genitori di due gemelli A dare per primo la notizia è stato TMS, un magazzine americano di gossip, mentre nessun annuncio ufficiale che è stato ancora da parte della coppia Una seconda conferma è arrivata poi anche da E. Entertainment, il canale televisivo della Fox che, inoltre, ha reso noti i nomi dei due nuovi arrivati in casa Iglesias, Nicolas e Lucy, un maschio e una femmina. Il cantante e l'ex tennista sono diventati genitori per la prima volta e, stando a quanto riportato dai siti di gossip online Oltreoceano, il parto sarebbe avvenuto questo fine settimana, a Miami. . . Enrique Iglesias e Anna Kournikova, una storia lontano dai riflettori. Enrique e Anna sono sempre stati molto attenti a tutelare la loro privacy. . I due, che stanno insieme dal 2001, raramente si mostrano insieme in pubblico. . 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